Qui va tutto abbastanza bene. Sono senza febbre, sono con antibiotico, antidolorifico. La sensazione è quella di avere un cinghialotto appoggiato sul petto, nel senso che fa un po' male il petto, ma per il resto non sento niente. Ho molto sonno, sono abbastanza rinco, ma direi che è andato tutto più che bene. Un salutone a tutti, ciao!